Sì, scusa a tutti, guardo una palla che è scusa, perché... Sì, scusa, 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 scusa... Sì, scusa, 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 scusa... 1-2-1-2-3-2-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-3-2-3-4-2-3-5-3-5-2-3. Il ter Stavamo Il ter Stavamo Il ter Stavamo Dottor no ha che dobbiamo dire due 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 no 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 Grazie mille e ok ci siamo l' championships allora questo ha 5 5 5 5 5 3 ok 5 3 5 non c'era il risultato . . . . . . . non mi posso stare bene poi siamo passati per questo non mi ha fatto e non mi ha fatto questo è così non è possibile e allora che quello che mi ha fatto è stato un'apparciato se fuori perché non pero non so non so non so non so non so Cosa parola? No, i non lo so. Cosa parola? Cosa parola? Ufff! No. No, non lo so che sono a scusata. Non lo so, non lo so. Non lo so. Non lo so, non lo so. NIE! Non lo so. Non lo so. i no l'chefino intenzione oggi paura i non mi prezzi un'asse un ide curricularücklich a domani oggi ci si a di chiudere a non ci si ok non è io mi rende l'evoluzione ok mi facciamo il giure? non ti come un? non ti come un buon avviso avviso Grazie a tutti. 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 Yeah. 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 un'escalvo 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 e non si può fare e cosa faccio? un'escalvo non ci sono un'escalvo e non ci sono un'escalvo 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 no oh ok 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Ok. Jest! To jest to! Cosa, ti ho scelto? O. D'rugini tu siede. O. NIE! Cosa, cosa! Fizla. 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 . 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 l'occhio non l'occhio non l'occhio Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.